Siamo di nuovo alla Piazza degli Eventi dove abbiamo rappresentato alcuni mesi fa una situazione di totale degrado. Questi sono i bagni. Non è cambiato nulla, forse si può dire è peggiorato, anche perché qualcuno ha fatto cadere i vasi e quindi c'è tutto il terriccio. Parliamo con alcuni nostri concittadini che spesso sono qua. Non è che noi vogliamo fare polemiche, ma purtroppo questa è una situazione che è insostenibile. C'è una delle città più belle del mondo, abbiamo un clima eccezionale, la gente è magnifica, un gruppo di amici qua che veniamo a passare un po' di tempo e abbiamo una marina che è una cosa incredibile, una sporcizia terribile. Potrebbe essere la cartonina di Città Vecchia e andare in tutto il mondo come una volta c'era la statua. Poi abbiamo questo spettacolo indecente, basta vedere quello che è. Qui passano ogni giorno 20.000 turisti che vanno a Roma e vanno a visitare Roma. devono andare al bagno o non c'è un posto per andare al bagno. Noi abbiamo chi abita vicino, chi va al bar, ma uno che viene da fuori, un turista, un inglese, un tedesco, qualsiasi persona, non può vedere una cosa del genere. Città Vecchia deve risorgere, non si può andare avanti così, è una cosa impossibile. A parte il bagno che è la presentazione della città, che è una cosa, come ripeto, che già Franco è stato eloquente, che è indecente. Ma vediamo anche qui le panchine che sono state diverse a Piazza degli Eventi. È una cosa che è impossibile, è una cosa che non si può vedere, quelli che vengono con skateboard e saltano su queste panchine. C'era anche la fontana con gli zampilli colorati, a suo tempo venne inaugurata e costò anche somme considerate. Non si sa per quale motivo questa fontana non funziona più. Chiaramente bisogna che questa qui si venga rimessa di nuovo in atto per far vedere alla città e ai turisti che vengono, come ripeto, che ha detto lui, che abbiamo detto, che è una città che è bellissima. Io poi sono stato fuori parecchi anni, poi sono ritornato e per me quando arrivavo a questa vacce di vecchia mi allargava il cuore.